Quattro secoli di amore filiale, di suppliche e ringraziamenti. Quattro secoli di sguardi rivolti a Maria e alla tenerezza di quel suo volto di madre. Dal 1619, da quattro secoli appunto, questa cittadina adagiata sulle estreme propaggini settentrionali dei Monti Blei, sul fianco di una collina affacciata sulla piana di Catania, rinnova la fede dei padri e celebra la Madonna della Neve, la cui immagine soave è raffigurata su una tavola quattrocentesca, prodigiosamente rinvenuta, incontrata a passaneto, alle porte della cittadina. Devozione antica e autentica che Francofonte confermerà, come ogni anno, il 4 e 5 agosto. Due giorni di preghiera, di gioia e di festa che racconteremo in diretta streaming e televisiva, grazie alle telecamere di Video 4K Revolution. Il 4 e 5 agosto potrete seguirci in diretta web sul portale webmart.tv e sulle nostre pagine social e in tv sull'emittente regionale TCS, canale 116 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!